Roberto Piazza tante volte d'avversario al Pallapanini, ora con le chiavi da padrone di casa. Un onore, una soddisfazione straordinaria, un impegno meraviglioso. La pressione no, assolutamente, perché vado a sostituire un grandissimo allenatore, lo so, ma è anche un amico. E di conseguenza, ripeto, un onore essere qui. Redditi è una squadra che ha vinto tutto, almeno da quel punto di vista lì, sul doversi ripetere, un po' di pressione ci sarà? Io credo che la squadra sia attrezzata, attrezzata per fare bene, attrezzata con dei giocatori nuovi anche. Ovviamente ha perso due giocatori molto importanti, però questo non vuol dire che dobbiamo abbassare le pretese. La pressione è semplicemente quella che credo di essermi sempre messo da quando ho cominciato questo mestiere e continua a essere la stessa. Quando tu ti metti la pressione massima ogni giorno che ti alzi, è evidente che poi dopo qualunque cosa arrivi da fuori, non ti tocca più di tanto. Rimpegnato quando Modena Volley è bussata alla tua porta, c'è stato bisogno di convincerti? Lì lo dovresti chiedere a Sartoretti e al presidente Lacatia. La telefonata del Sarto è arrivata mentre io ero in viaggio verso il Qatar, la risposta è arrivata il giorno dopo, nel senso che non ho dovuto pensarci molto. Lo dicevo prima con qualche fotografo, Modena è la Juventus del calcio in Italia, secondo me è addirittura qualcosa di più, è più simile a un Real Madrid, a un Barcellona. Per cui quando chiamo a Modena, oddio, è la prima volta che mi capita di interrompere un rapporto, di conseguenza me ne dispiace per il Qatar, però è un'occasione unica. Dal punto di vista della squadra forse l'unico punto interrogativo è nel ruolo del regista, con Bruno che esce, Orduna che entra. Non sono d'accordo, nel senso che Bruno è ed era un grande accentratore, un grande motivatore per tutta la squadra. Ovviamente era anche, ed è un grandissimo distributore, un grandissimo palleggiatore. Sono convinto che Santiago potrà far vedere delle cose straordinarie. Magari in altro modo, magari giocando altri tipi di palle, però comunque la cosa più importante credo che sia la coesione del gruppo e credo che Santiago sia abile nel costruire questa cosa. Quattro competizioni, tutte da cercare di vincere. A me non piace ripetere quello che hanno detto gli altri. L'anno scorso Angelo diceva che eravate una squadra che era la cacciatrice di finali. Io credo che dobbiamo arrivare fino in fondo in tutte le cose, poi dopo tireremo le somme. Roberto, chi era Erving Gapet quando l'hai trovato in Italia a Cuneo? Che Erving Gapet ti aspetti al suo ritorno delle Olimpiadi? Io credo fosse già molto forte quando era a Cuneo, quando sono arrivato io. Ovviamente era solo il secondo anno di Italia. È cresciuto tanto dall'epoca, è cresciuto tanto come continuità. Credo che Modena lo abbia aiutato in maniera straordinaria. Io farò del mio anche per dare quello che a lui spetta, perché è un giocatore con un cuore straordinario. Chi è diventato Erving in questo ultimo periodo credo che sia diventato un giocatore consapevole della propria forza. Prima era ancora molto empirico, se vogliamo. Adesso è molto pratico. Spostiamo l'orizzonte a Rio, hai sei giocatori impegnati là per tre nazionali diverse. Secondo te qualcuno torna a casa con una medaglia? Io mi auguro di sì. Però non voglio dire chi, però mi auguro di sì. Hai qualche ricordo da avversario qui al Palapanelli che ha un po' il tempio? Tanti, tanti. I ricordi cominciano quando ero ancora assoluto in panchina, ma come giocatore. C'era Dastidvora che palleggiava con Zorzi opposto e Velasco ci fece una torta come una capanna. Il nostro allenatore era Giampaolo Montali, per cui vado indietro da lì. Mi ricordo addirittura prima ancora quando Kim palleggiava, eccetera, eccetera. Perché ho avuto la fortuna di essere al suo fianco come secondo allenatore, Kim era il primo a Parma. I ricordi miei personali come capo allenatore, ho delle partite meravigliose qua. Ricordo partite meravigliose. A parte l'ultima che mi è rimasta un po' qui quando Modena aveva appena preso Bruninho a palleggiare. Credo fosse l'8 di gennaio del 2014. E dopo tre giorni ci batterono 3 a 1. Ma fu una bella partita anche quella. Perfetto coach.